Buonasera, buonasera da Onda, Tigino apertura subito la sanità, il punto nascita aperto in deroga, primo livello per l'ospedale di Sulmona, la giunta regionale d'Abruzzo approva il riordino ospedaliero in attesa del passaggio in consiglio regionale e del placet del governo, ma facciamo il punto nel nostro servizio. Punto nascita in deroga e classificazione di primo livello per l'ospedale di Sulmona, non solo un annuncio ma da oggi una scelta politica, quella compiura dalla giunta regionale che ha ratificato il riordino ospedaliero in attesa del passaggio in consiglio regionale per l'approvazione definitiva e del parere fondamentale da parte del governo. Viene potenziata la rete ospedaliera, una rete nuova con più posti letto, più unità operative, quindi finisce la stagione in cui la riorganizzazione della rete significa dolorose privazioni, lacrime e sangue. Apriamo invece finalmente una stagione di rilancio della sanità pubblica, della sanità nel suo complesso ed è importante perché erano almeno un decennio che questa rete non veniva toccata e nessuno aveva avuto la forza o il coraggio di farlo, anche di affrontare le inevitabili discussioni sui territori, ma credo che abbiamo prodotto un documento importante, equilibrato e spero che la maggioranza e il Consiglio possano presto approvarlo e farlo diventare legge. Critiche ci sono e senz'altro ci saranno. Quello che dobbiamo dire è che è un piano che ha preso in evidenza tutte le difficoltà della nostra regione, in modo particolare non abbiamo chiuso i piccoli ospedali, i famosi presidi ospedalieri, ma a ognuno di loro abbiamo dato un'identità, abbiamo dato una vocazione, evidenziando ancora di più la rete dell'emergenza urgenza su quei presidi app che possono poi dare quelle risposte immediate a tutti i nostri pazienti che hanno sia problemi cardiaci e sia nel caso in cui dovessero esserci dei traumi. L'offerta ospedaliera regionale si articola attualmente in 23 strutture ospedaliere per acuti, di cui 16 pubbliche e 7 private accreditate. La programmazione regionale prevede, tenendo conto dei criteri di efficienza, di complementarietà di discipline in relazione ai bacini di utenza, la seguente classificazione dei presidi. 4 ospedali con funzioni di idea di secondo livello per le reti tempo dipendenti, l'Aquila e Pescara per la rete Stroke e per la rete politrauma, trauma maggiore, Chieti e Teramo per la rete emergenze cardiologiche estese. 4 ospedali sono di primo livello, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Basto. 6 ospedali di base, Ortona, Popoli, Penne, Atri, Giulianova e Santomero, 2 presidi di aria disagiata, serie di pronto soccorso, Cassel di Sangro e Atessa. Nella programmazione inoltre sono previste le emodinamiche a Basto e Avezzano, mentre viene mantenuto aperto, in deroga, il punto nascita di Sulmona. E ancora l'ospedale senza personale e senza dignità per la UIL che rilancia la battaglia dopo l'area di rinnovamento. Il nostro servizio. Dare forza alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori che si spendono ogni giorno per la sanità pubblica, ridare dignità all'ospedale di Sulmona, sostenendo la classificazione di primo livello e questa la mission della UIL che rilancia la battaglia per il potenziamento del nosocomio sulmonese con aria di rinnovamento, annunciando l'ingresso nel sindacato di Gianna Tollis, Claudio e Mauro Incorbati. La fotografia scattata sull'ospedale Peligno fa emergere un quadro a tinte fosche con una carenza di personale che arriva ai massimi storici. Il presidio è rimasto con quattro unità operative complesse, rianimazione compresa, ma la lungodeggenza risulta ancora inattiva. Oggi la UIL è qui per dire che bisogna ripartire con maggior forza ed è vero che qui è stato fatto molto dal segretario Marcello Ferretti e dal dottor Mauro Gabrielli, ma con l'ingresso di questi nostri amici storici che operano nel campo sindacale da tantissimi anni, la UIL sarà più impattante nel risolvere le problematiche dei tanti lavoratori che lavorano, come dicevo, nel servizio sanitario della Valle Peligno. E noi pensiamo che attraverso i concorsi, stabilizzazioni e avvisi pubblici si possa realizzare questo progetto perché i lavoratori precari, i lavoratori che si trovano all'interno dell'ospedale e del territorio chiaramente non possono ritenersi soddisfatti. Quindi manca il personale, le risorse ci sono, bisogna muoversi in questa direzione. Non solo, ma i sanitari pure che mancano e a Sulmono non si riesce a far arrivare sanitari stabili al di là di qualche medico che viene qui a Sulmono per due mesi, questo io penso che non è più possibile, ma bisogna cambiare rotta e sistemare tutte le situazioni precarie che ci sono all'interno della sanità. Quindi la UIL chiede con tutta la forza che è possibile alla Direzione Generale della ASL di assumere in tempi brevissimi medici, infermieri, os, tecnici e personale amministrativo affinché non si paralizzi il sistema sanitario di questi territori. Ora la situazione Covid, scatta e sovralluogo al Palasport, tamponi molecolari dalla prossima settimana, anche oggi zero contagi e vaccini all'omicino come anticipato in precedenza, noi facciamo il punto nel nostro servizio. Sarà operativa dalla prossima settimana, probabilmente tra un'edì 26 o al massimo mercoledì 28 luglio, la postazione dai tru dei tamponi molecolari nel parcheggio adiacente al Palasport di via 25 Aprile a Sulmona. E quanto è emerso all'esero di un sopralluogo che si è svolto in tarda mattinata tra ASL e Comune e nell'area individuata. Chi pensava di poter partire già da domani dovrà ricredersi. L'azienda sanitaria si è messa in moto per modificare l'indirizzo di convocazione per organizzare i turni con il personale dell'USCA che svolge i tamponi per tre volte la settimana. A carico del Comune resta invece la manutenzione del piazzale, per cui, prima della messa a regime della postazione dei tamponi, si rendono necessari alcuni interventi di pulizia del parcheggio, dei locali interni concessi all'ASL per lo stoccaggio del materiale sanitario e per l'installazione dei tendoni e della cartellonistica che servirà a estradare gli utenti. I percorsi sono stati già definiti. Per sottoporsi al test si entrerà nell'area del parcheggio, seguendo il perimetro delineato nel piazzale, e si uscirà dall'ingresso principale. Quello che è certo è che si partirà la prossima settimana. Per l'adaro ufficiale c'è da attendere ancora qualche giorno. Domani e venerdì le sedute si svolgeranno, come da convocazione, nel piazzale dell'ospedale di Sulmona, sperando di contenere il più possibile il caos e viabilità già riscontrato nei giorni scorsi. Intanto, come previsto, anche oggi la casella dei nuovi positivi rimane vuota. Tiene la curva epidemiologica in centro Abruzzo. Nelle ultime 24 ore è sceso il numero dei sorvegliati dall'ASL da 114 a 104, ma restano 35 gli attuali positivi, non essendosi registrata alcuna negativizzazione. Per le prossime ore sono attesi gli esili dei 60 tamponi svolti nella giornata di ieri. Per cui il prossimo bollettino potrebbe far emergere nuove guarigioni o positività, anche se tutti i fronti di contagio risultano da tempo assestati. Va evitata l'apertura di nuovi scenari epidemiologici con le comuni misure di prevenzione. Infine, anche questa non è una sorpresa, almeno per noi, si registra un rallentamento su fronte delle inoculazioni per via dell'approvvigionamento delle dosi. Oggi sono state inoculate 130 dosi a Sulmona, 88 a Pratola Peligna, 79 a Casteldisangro. Circa mille richiami tra ieri ed oggi sono stati rinviati. Da domani la campagna vaccinale dovrebbe tornare a seguire la tabella di marcia. Anche Vescovi in campo, uniti per il Tribunale, parte la Corale, supplica contro la chiusura dei quattro presidi giudiziari, tra cui quello di Sulmona e il nostro servizio. Vescovi uniti nella battaglia contro la chiusura dei tribunali di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto. Come pastori del popolo affidato alla nostra cura pastorale, nei territori delle diocesi di Avezzano, Sulmona Valva, Chieti Vasto e Lanciano Ortona, esprimiamo la nostra solidarietà che i tanti si oppongono alla chiusura dei cosiddetti tribunali minori di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. A pagare le conseguenze di tale chiusura sarebbero i più deboli le tante persone che hanno bisogno di ricorrere alla giustizia e che hanno ben pochi mezzi per farlo. Servano i presoli in una nota. Allontanare la prossimità del luogo di giudizio significherà per tanti rinunciare al ricorso ai tribunali, inducendo la sfiducia nelle istituzioni, nell'attenzione che lo Stato dovrebbe avere soprattutto nei confronti di quanti hanno minori mezzi e possibilità. Ci appelliamo alle autorità preposte perché si soprassieda alla paventata chiusura, si cerchino soluzioni adeguate ai problemi riscontrati, ascoltando le urgenze della nostra gente, rappresentate anche da voci competenti nel mondo della giustizia e dagli amministratori locali, concludono i Vescovi. Come di consueto ci fermiamo con la prima parte di Onda Regimi, ma torniamo tra poco con le nostre notizie. Soluzioni a portata di casa. Angelo Tendaggi, tende da sole Arquati e Parà Tempotest. Pergotende Arquati e Gibus, zanzariere delle migliori marche. Vivi in tutta libertà i tuoi spazi esterni. Rivoluziona il modo di abitare e goditi soluzioni ad hoc, personalizzate e funzionali. Disegna il tuo giardino e terrazzo con gazebo in legno e alluminio. Tende da sole belle e resistenti, realizzate con materiali di qualità. Con Angelo Tendaggi puoi accedere alla detrazione fiscale al 50% sulle tende da sole in via Gennaro Sardi 30 a Sulmona. Angelo Tendaggi, praticità e relax. Lavorare con passione è questo. Il nostro segreto. Lpg in legno dal 1997 realizza tetti, tettoie, gazebo, casette e garage in legno di alta qualità. Pali a recinzioni in pino impregnato e castagno. Case residenziali antisismiche, dall'ideazione alla pose in opera. Alla LPG legno, le tecniche più all'avanguardia e le lavorazioni artigianali ci aiutano a raggiungere l'eccellenza. Contattaci per costruzioni civili e industriali. Per le pubbliche amministrazioni siamo sul MEPA. LPG è centro lavorazione legno autorizzato. Progettazione e stabilimento a Raiano, zona industriale 347-588-7107. LPG legno, la tradizione artigiana. Incontra l'innovazione quotidiana. Ai supermercati Tigre di Raiano e Pratola. Confezione Magno-Malgida, 4 pezzi e ghiaccioli consiglia, 20 pezzi, 2,79 euro. Pesca nettarina gialla e pesca tabacchiera, 1,99 euro al chilo. Salsicce di puro suino, produzione propria, 5,99 euro al chilo. Olio italiano extravergine clemente, 1 litro, 3,99 euro. Mozzarella valelata, confezione da 720 grammi, 4,49 euro. Estate Ferrero, limone, pesca, 1,5 litro, 1,49 euro. Birra Heineken, 66 centilitri, 99 centesimi. Punto vendita di Raiano, orario continuato. E domenica, aperto ore 9.13. Supermercati Tigre, Raiano, strada statale 5 e Pratola Peligna, via Valle Madonna 51. Immerso nel verde in via Cerrano a Pratola Peligna, ti aspetta il ristorante Pizzeria La Vigna. Ottima cucina a casareccia, la pasta fatta in casa, la carne alla brace, la pizza al forno a legna, ampi spazi interni ed esterni per garantire sempre il distanziamento. Adatto per cerimonie, banchetti o una serata tra amici. Servizio di asporto e consegna a domicilio. Ritrova i sapori di casa tua al ristorante Pizzeria La Vigna, via Cerrano a Pratola Peligna. L'Aias, sezione di Sulmona, ODV, è un'organizzazione di volontariato per assistenza alla disabilità rivolto ad adulti e bambini. Da anni siamo vicini alle famiglie di persone diversamente abili, promuovendo il loro benessere psicofisico, l'autonomia e l'inclusione sociale. Con il nostro personale specializzato, organizziamo corsi di formazione per adulti dopo la scuola pubblica, attività ludico-ricreative per i più piccoli e laboratori di artigianato artistico per stimolare le risorse personali. Inoltre, da settembre, partiamo anche con il doposcuola inclusivo, aperto a tutti. Venite a trovarci, siamo a Sulmona, in via Torrone 44C. Continuate a sostenerci, donando il vostro 5x1000. Continuate a sostenerci, donando il vostro 5x1000. Il cibo non è solo nutrimento, ma anche identità, tradizione, territorio. Valori a te cari, che danno più gusto alla tua giornata e che trovi nei prodotti Terra Antica. Latte alta qualità, olio, formaggi freschi e stagionati, tutti ingredienti semplici e genuini provenienti dalle terre abruzzesi. La cooperativa Terra Antica tutela i sapori autentici della tradizione, perché tu possa portarli a tavola e condividerli con i tuoi cari. Latte, olio, formaggi freschi e stagionati delle terre d'Abruzzo. Metti in tavola solo ciò di cui ti fidi. Terra Antica, alta qualità, a chilometro zero. Seconda parte, seconda parte di Onda Tg, niente piattaforma di prossimità per il parcheggio selvaggio. Come sapete, però arrivano le prime multe, sono quattro gli automobilisti sanzionati. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Hanno parcheggiato la propria auto nel piazzale dei Vigili del Fuoco, dove era previsto il servizio di ritiro ingombranti da parte del Coggesa, in barba e diveti esposti in Bella Vista. Per quattro automobilisti è arrivata la sanzione amministrativa della Polizia Locale, che dopo la denuncia della società partecipata, ha effettuato i rilievi del caso per risalire agli indisciplinati utenti della strada. La multa da 42 euro per diveto di sosta, con riduzione a 29,40 se pagata entro cinque giorni, è scattata dopo l'intervento dei Vigili Urbani, richiesto dal Coggesa e dagli avventori. Le auto in sosta selvagge in realtà erano più di quattro, ma l'ordinanza di Ramatra, Palazzo San Francesco, faceva riferimento al perimetro che va dall'uscita del parcheggio, continuando lungo il muro adiacente e la circonvallazione occidentale per la lunghezza di 30 metri. L'episodio ha scatenato una serie di reazioni da parte degli utenti che si sono dovuti riportare i rifiuti a casa. Pensavano di liberarsi dei propri ingombranti, sfruttando l'opportunità data dal Coggesa, ovvero mettere in piedi una sorta di piattaforma mobile di prossimità per venire incontro alle esigenze dell'utenza, fortemente provata più di un anno dalla chiusura della piattaforma di Noce Mattei. Come a dire se il cittadino non può andare a Coggesa, è il Coggesa che va in mezzo alla gente. Peccato che la nobile iniziativa è stata rovinata dal parcheggio selvaggio che ha fatto saltare il ritiro degli ingombranti. Il Coggesa ci riproverà il 30 luglio dalle 8 alle 12. Per l'occasione è istituito il diveto di sosta in via Sallustio, piazza Le Lidl, partendo da primo ingresso, direzione di marcia, via Le Costanza, via Lamaccio, per la lunghezza di 30 metri. Si raccomanda buonsenso e collaborazione perché il comune, va ricordato, non ha nemmeno un carattrezzi disponibile dopo la scadenza della convenzione, altro che rimozione forzata. Un anno senza Luca e Anna Morelli, il bomber Peligno stroncato a 30 anni da una leucemia, una maglia azzurra dell'Italia campione d'Europa è stata consegnata nel pomeriggio ai familiari. Una maglia dell'Italia campione d'Europa, personalizzata con il numero 9, per manifestare tutto l'affetto del calcio italiano ai familiari di Luca e Anna Morelli, il bomber Peligno stroncato da una leucemia alla soletà di 30 anni. L'omaggio arriva dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in occasione del primo anniversario della scomparsa di Anna Morelli. Un gesto importante, apprezzato dalla polisportiva morronese, ultima detentrice del cartellino di Luca, che in un posto ha ringraziato il presidente Gravina e la federazione, affinché il ricordo di un ragazzo buono e sincero possa continuare a vivere nel tempo, a consegnarle ai familiari a staro Don Gilberto Squategui, a margine della Santa Messa celebrata nel pomeriggio della Chiesa dell'Annunziata, a un anno dalla morte. Luca era tesserato per la polisportiva morronese, ma negli ultimi anni aveva giocato anche per l'Aurora Sulmona, 24 reti tra il 2014 e il 2017. Con la morronese, tra prima e seconda categoria, in tre stagioni aveva segnato 14 gol, era fermo dalla fine del 2019, dove aver scoperto della malattia che stava indebolendo il suo fisico. Il suo ultimo gol risale al 6 ottobre 2019 contro il Collarmele, e starò sempre un giocatore di riferimento del calcio dilettantistico. Il giovane ha lottato contro la leucemia e il suo cuore, quel 20 luglio di un anno fa, ha cessato di battere all'ospedale di Pescara, dove si trovava ad alcuni giorni per seguire un nuovo ciclo di chemioterapia. L'ultima partita, la più importante, che si può considerare vinta, se il suo ricordo oggi è ancora vivo, impresso nella mente, nel cuore, di chi deve severtrovare con il suo esempio la forza, la determinazione di affrontare anche le più dure avversità della vita. Striccione nel circolo DEM all'indomani di ricordo della strage di Via D'Amelio, il PD di Somona rilancia la battaglia contro le mafie, che danno Trigiglione Servizio. 19 luglio 1992, sono passati soltanto due mesi dalla strage di Capaci, e l'Italia torna di nuovo a fare i conti con le stragi della mafia. Dice il 9 luglio, in Via D'Amelio trovano la morte il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta. Una Fiat 126, imbottita con 90 kg di esplosivo, è il nuovo avvertimento alla magistratura per bene. L'auto parcheggiata sotto la casa di Borsellino salta in aria, quando arriva il giudice. In verità oggi un'Italia un po' distratta non trova molto spazio per ricordare Borsellino. Il PD, Democratico Circo di Sulmona, come aveva già fatto per ricordare Falcone, ha esposto un'ostricione per ricordare e non dimenticare. Noi abbiamo voluto omeggiare in questo modo la memoria di Paolo Borsellino, per cui allo stesso orario della strage di Via D'Amelio abbiamo esposto l'ostricione così come abbiamo fatto in occasione della strage di Capaci. crediamo che il dovere di un cittadino e ancora più di un circolo politico sia quello di mantenere viva la memoria di certi fatti che hanno cambiato purtroppo la storia del nostro paese. Per sottolineare ancora una volta l'impegno di questo circolo contro tutte le illegalità che in qualche modo interessano anche il nostro territorio, come abbiamo cercato di dimostrare in più di un'occasione nel corso di questo anno e mezzo in cui ci siamo reimpegnati attivamente nella politica cittadina. Oggi, anniversario di quella strage che tanto dolore ha causato alla nazione, abbiamo voluto testimoniare questo nostro impegno. Io credo che questa sia un'iniziativa meritoria alla quale volentieri aderisco sia dal punto di vista personale che come rappresentante di Sinistra Italiana. Credo che oggi bisogna mantenere alta l'attenzione rispetto al tema delle mafie e onorare coloro che si sono battuti anche a costo della vita a favore di una Italia democratica che ha combattuto e materialmente ha pagato contro il fenomeno mafioso. Ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Un gesto eroico che merita il riconoscimento civile lo ha scritto a caratteri cubitali il segretariato generale della Presidenza della Repubblica riguardo la vicenda del malore improvviso che ha visto protagonista un 56enne di Sulmona salvato da Vincenzo Russo, giovane tecnico della ditta, Rigo Cautela e dai sanitari. A mettere a corrente il quirinale dell'episodio è stato un giovane pratolano che dopo aver letto la notizia ha pensato di scrivere di sua iniziativa una missiva alla Presidenza della Repubblica per un riconoscimento formale al giovane tecnico che con la pratica del messaggio cardiaco ha permesso a Sulmonese di continuare a vivere. È un gesto eroico di un ragazzo tanto giovane che mettendo in pratica senza idduggio le manovre di primo soccorso è riuscito a rievitare una tragedia ha scritto il vicario di gabinetto Antonella Trifella suggerendo riportare a conoscenza il caso alla Prefettura di Residenza per un riconoscimento civile. La vicenda risale al 12 giugno scorso quando il 56enne mentre attendeva l'installazione di un condizionatore è stato colto da malore improvviso in casa. L'equip medica non ha tardato a intervenire nell'immediatezza sul posto ma in quel lasso di tempo le manovre di primo soccorso sono state praticate da Vincenzo Russo l'impiegato della ditta che non ha smesso nemmeno un secondo di massaggiare il 56enne fino all'arrivo dei sanitari un gesto di vera abnegazione che si è rivelato provvidenziale per questo un altro pratolano ha deciso di sottoporre il caso al capo dello Stato. I sanitari cheppure hanno operato con professionalità e precisione sono in qualche modo preparati ad affrontare e gestire eventi del genere mentre per un giovane non è certamente all'ordine del giorno. Nelle scorse settimane a Sulmona l'associazione Diadema ha organizzato una giornata di sensibilizzazione per l'uso del defibrillatore salvare una vita è una responsabilità grande ma tutti possono acquisire gli strumenti per porre in essere la cosa giusta al momento giusto. La storia di Vincenzo del 56enne è una chiara dimostrazione. Prima di chiudere vi ricordo anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv per restare aggiornati su tutte le notizie ma come ogni martedì non possiamo chiudere senza il nostro appuntamento settimanale riservato all'aforisma un pizzico di saggezza popolare dietro l'informazione e dietro le nostre notizie. Bene davvero tutto per questa edizione grazie per aver scelto Onda Riggi che come di consueto torna domani. A tutti una buona serata. Buonasera Andrea buonasera degli spettatori di Onda Tg eccoci con il nostro appuntamento settimanale con l'aforisma oggi voglio parlare di un disguido che si è verificato qualche giorno fa allora tutti quanti sappiamo che qui a Sulmona già da un bel po' da più di un anno non è possibile conferire i rifiuti ingombranti all'ente gestore del servizio raccolta al Coggesa in quanto l'isola ecologica cioè il punto di raccolta di questi rifiuti ingombranti per questioni burocratiche è chiuso da parecchio e quindi non si può andare lì alle varane alla sede a portare questi rifiuti i rifiuti ingombranti parliamo di lavatrici stufe armati tavoli sedie roba vecchia e così c'è cose comunque non conferibili alla raccolta giornaliera allora dopo tanto il comune è riuscito ad avere la disponibilità di questo ente gestore a fare in modo che i rifiuti ingombranti venissero comunque raccolti in un modo o nell'altro e si è stabilito che secondo un calendario loro mettono a disposizione i contenitori gli scarrabili quindi i container e la gente conferisce nei giorni stabiliti negli orari stabiliti porta lì in questa piazza in queste piazze larghi in questi luoghi dove viene stabilito porta i rifiuti da smaltire questa è la premessa il cappello l'altra mattina davanti ai vigili del fuoco di Summona che c'è un piazzale che era stato scelto per fare questa operazione si è organizzato la raccolta c'è stata un'ordinanza dirigenziale del comune di Summona con tanto di divieto di sosta quindi cartelli piazzati un po' dappertutto nell'area dove dovevano essere raccolti questi rifiuti si invitavano i possessori di automobili di autovetture e veicoli in genere a lasciare libera un'area lunga 30 metri per consentire appunto questa raccolta se non che qualche automobilista più di qualcuno o perché non ha letto l'ordinanza o perché non ha visto il cartello o perché era disattento o perché se ne è fregato che ognuno c'è i suoi motivi hanno lasciato le auto in sosta in in quest'area e la raccolta di questi rifiuti non si è potuta fare conseguenze il comune paga lo stesso lo scomodo ai servizi agli automezzi che si sono mossi per fare un servizio che poi non l'hanno potuto fare ma lo comune i soldi li caccia lo stesso i soldi nostri li caccia lo stesso chi doveva conferire i rifiuti si è ingazzato come una bestia perché ha portato la sticocci da smaltire e non li ha potuti smaltire e alla fine la sanzione per questi contravventori delle macchine 30 euro 30 euro vengo all'aforisma se dice a sul mona che l'amicizia si mantè quando una mano va e una mano venga cioè l'amicizia si mantiene quando una mano va e l'altra viene sostanzialmente questo proverbio fa riferimento all'amicizia in generale dell'amicizia fra le persone l'amicizia che non è mai a senso unico no se uno da sempre e l'altro prende sempre diventa un'amicizia interessata da un lato solo non è più un'amicizia diventa una questione di tornaconto col tempo non va avanti perché se non c'è un ritorno a livello di cortesia di scambio di favore di gentilezza l'amicizia finisce se invece c'è uno scambio reciproco io ti do una cosa a te tu la dai a me ti faccio un favore a te tu lo fai a me io ti faccio un sorriso a te ma fai un sorriso a me l'amicizia va avanti io ti faccio gli auguri a te ma fai gli auguri a me l'amicizia va avanti l'amicizia si intende anche fra cittadini e istituzioni pubbliche che l'amicizia non è solamente fra i vicini di casa o fra parenti o fra l'amico che sta l'amicizia è anche fra cittadini e istituzioni pubbliche per quanto noi ci lamentiamo dei nostri amministratori che teniamo sempre da ridire qualunque cosa un amministratore faccia lo può fare nel modo migliore accontenta sempre una parte della gente e ne scontenta altri è normale qualunque provvedimento si prende al tuo accontento al tuo scontento però laddove le istituzioni si mettono dalla parte dei cittadini e per evitare che il cittadino vada a buttare questi rifiuti in giro perché poi il cittadino già va a trovare una tentacatura cioè il cittadino ci metto pure io eh io sono un cittadino come voi non sono uno di un altro pianeta sono un cittadino come voi lui è trovato una tentacatura cioè andiamo cercando il pretesto il pretesto per non fare le cose o per farle fatte male allora il comune non mi dà la possibilità di smaltire la lavatrice vecchia il concese non mi dà la possibilità di poterla portare e io la vado a buttare in campagna non è una giustificazione ma è ragionamento logico che fanno quelli che devono buttare la lavatrice lo fanno quelli che danno a buttare lo vetro rot lo fanno quelli che danno a buttare la sedia rot il comune non mi dà la possibilità di poter portare i rifiuti da nessuna parte io li butto in campagna allora il comune per evitare questi episodi di vandalismo questi episodi di diciamo di disprezzo nei confronti di ciò che è il comune decide di venire incontro l'anzo può lo portare ve li veniamo a prendere noi una volta sto piazzato una volta a custare piazzato una volta da vedasciare la ponte ci mettiamo a disposizione dei cittadini però anche il cittadino deve essere collaborante non pure assare la macchina parcheggiata là fregandotene di un divieto tanto diciamo male che va paghe 30 euro di multa no non è così che funziona perché tu cittadino che hai lasciato la macchina parcheggiata per l'amore di Dio se hai avuto una necessità perché non ti sei sentito bene perché ti hanno ricoverato in ospedale perché ti sei sentito male tante delle cappelle io ho sempre il massimo rispetto per le necessità serie degli altri ma se lo hai fatto tanto per un atto di spavalderia perché hai visto che la sanzione sono 29 euro in rotta manca 30 euro cioè vabbè tanto la macchina sta bene qua che me ne frega a me non funziona così non funziona così e tu dirigente che hai fatto l'ordinanza ti do del tuo perché non neanche so chi l'ha firmato questa ordinanza invece di mettere una sanzione di 30 euro visto che è un'ordinanza fatta per motivi di utilità pubblica quindi è un'ordinanza non è un normalissimo divieto di sosta messo là è una cosa temporanea fatta perché ci sta una necessità la necessità può essere la raccolta di rifiuti la potatura delle piante la sostituzione dell'ucava elettrica il fatto che si deve sturare una foglia che si è chiusa le necessità sono tante l'ordinanza ce la mette la penale chiunque mio la viene denunciata l'articolo 650 del codice penale in osservanza di provvedimenti dell'autorità non 30 euro di contravenzione lo dico contro i miei interessi perché pure io posso aver lasciato la macchina parcheggiata e così senza niente ma la prossima volta mi sveglio perché invece le caccia 30 euro se mi mando in tribunale davanti a un procuratore se mi macchia una pittina penale per una stronzata che c'era io mi ci ripenso prima di lasciare la macchina parcheggiata non solo ma la mia disattenzione non deve essere di danno di inocumento agli altri cittadini che sti cacchio di rifiuti li hanno presi e li hanno portati là per smaltirli legalmente per smaltirli civilmente veniamoci incontro no? ci dobbiamo venire incontro i cittadini fra di noi ma dobbiamo aiutare le istituzioni a non essere cattivi con noi perché poi il sindaco o chi per lui il comandante dei vigi chiunque ha l'autorità rivede l'ordinanza e dice effettivamente 30 euro sono poco per una roba del genere per un'interruzione di pubblico servizio anche l'interruzione di un pubblico servizio è un reato e allora se chi fa l'ordinanza visto che con le buone non ottiene nulla visto che prevedendo 30 euro di contravenzione non ottiene nulla a sto punto mettiamo in condizione chi fa l'ordinanza di essere cattivo lo mettiamo in condizione di arrabbiarsi e metterci la penale un po' più seria a danno di chi? dei noi cittadini ma perché abbiamo arrivato sempre a fare queste cose a dare sempre le palacchiate in goccia alla gente perché? quando potremmo essere belli tranquilli volerci bene tutti quanti ma che ci costa volerci bene essere un po' più attivi ci stanno di vieta di soste per una mattinata 4 ore 4 ore non ce la metti questa cacchia la macchina la no mettiamola in altra parte poi c'è un parcheggio grandissimo 30 metri ti hanno chiesti 30 metri da ecco a loro ti hanno chiesti mica ti hanno chiesti uno colore 30 metri sposto la mano e basta speriamo che per la prossima situazione che si verifichi il 30 di questo mese a via San Lustio speriamo che la gente stia un po' più attenta nel parcheggiare le macchine arrivederci buona serata buona serata grazie